Le Marche devono ancora rinunciare ad avere un rappresentante al Parlamento europeo. Così come nel 2009 e anche nel 2014, la Regione non sarà rappresentata nel cuore della politica europea che conta, dove si decidono strategie e si trovano i fondi per i vari settori produttivi. Il meccanismo dell'elezione continentale è purtroppo impietoso in genere per le Regioni più piccole. Le Marche sono da sempre inserite nella circoscrizione centro, che comprende anche Umbria, Lazio e Toscana. A farla da padolone è stato ovviamente il Lazio, che ha eletto il maggior numero di rappresentanti e a seguire la Toscana. Le Marche sono rimaste a bocca asciutta, nonostante abbiano presentato ben 14 aspiranti ad un seggio europeo, in rappresentanza di quasi tutti i partiti in lizza. L'ultima europarlamentare targata Marche è Luciana Sbarbati. A conti fatti, la miglior performance marchigiana l'ha ottenuta la giovane Emanuela Vora, del Partito Democratico, che ha toccato quasi quota 50.000 preferenze. Ma anche non le sono bastate per volare a Bruxelles. A seguire Fabio Bottiglieri del Movimento 5 Stelle, Barbara Cacciolari di Forza Italia e Italo D'Angelo del Nuovo Centrodestra.